Sondaggio riservato in casa Lega, Zaia e Fedriga i più graditi, poi Giorgetti. Matteo è solo quarto. La premessa, d'obbligo, è che ad oggi la Lega non è un partito scalabile. Lo svolgimento, però, racconta di un movimento in grandissima agitazione, spaccato a metà tra una leadership a cui molti dei colonnelli non riconoscono più quella lungimiranza politica che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe messo in discussione, nonostante il disastro del papete dell'estate 2019. La conclusione è che c'è un corposo pezzo di carroccio che è pronto a chiedere conto a Salvini delle sue scelte. In primo luogo, la decisione di trasformare un partito autonomista, saldamente ancorato alle ragioni del Nord, in una forza nazionale con una decisa in alcuni casi sfrontata tendenza verso destra. In ultimo la posizione assolutamente ondivaga sulla questione Covid prima sulle mascherine e poi sul Green Pass. Una linea così contraddittoria dall'essere percepita anche tra i militanti più fedeli come una mano tesa al mondo Novax. Il Red Rescione inizierà il 5 ottobre, quando le urne certificheranno il crollo di consensi della Lega Nazionale che Salvini è riuscito a portare fino al 34% delle europee 2019. Con quei numeri era facile decidere con disinvoltura. E gli oppositori interni si guardavano bene dal farsi sentire. Ma se come dicono molti dei sondaggi riservati nelle mani delle segreterie dei partiti FDI scavalcherà la Lega, la storia è destinata a cambiare. Soprattutto si accadrà a Milano, capoluogo e cuore della Lombardia che al carroccio ha dato i Natali, era il 12 aprile 1984 quando Bossi si presentò davanti a un notaio di Varese e firmò l'atto costitutivo della Lega Lombarda. È questo lo scenario all'interno del quale Salvini inizia a muoversi con fare piuttosto scomposto, tanto dal fare scouting tra i partiti alleati a pochi giorni dal voto amministrativo. Circostanza che ha fatto evidentemente andare su tutte le furie i vertici di Forza Italia, ma ha lasciato perplessi anche molti dei big del carroccio. Matteo è in confusione, è il leitmotiv rigorosamente off-record che ripetono. Il leader è ben consapevole dei malumori interni, ma sembra non curarsene. Ieri, per dire, la Camera ha approvato il via libera al DDL di conversione al decreto Green Pass Bis, ma i deputati del carroccio erano per metà assenti.